Costruire un piano per i vaccini per i disabili, gli immunodepressi, i più deboli, sarà chiesto al Ministro della Salute e Speranza e al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dal Presidente dell'Associazione Andare Avanti. È un atto di civiltà, ha dichiarato Gaetano Amatruda, portavoce di un vero e proprio SOS, che ha raccolto l'appello di quanti ad oggi sono stati esclusi dal piano prioritario vaccinale nazionale. Genitori che stanno vivendo un'emergenza nell'emergenza, perché l'isolamento causato dalla pandemia ha interrotto percorsi educativi, di socialità e di inclusione, una situazione appesantita dal timore dei contagi e dei ricoveri. Il vaccino permetterebbe invece di riprendere quelle attività interrotte per chi ha problemi cognitivi e comportamentali. Sì, è il momento della responsabilità e del buonsenso. Come associazione lavoreremo con il Governo, per quanto possibile, con la Regione Campania, per chiedere di immaginare e costruire un piano per i vaccini, che parta dai disabili, da chi è più debole, dagli immunodepressi. È un atto di civiltà, è un atto di amore verso quelle famiglie che tutti i giorni, ogni giorno, a prescindere dalla pandemia, combattono e combattono davvero sempre con enormi sacrifici. I disabili, queste categorie vanno inserite in un piano strategico, prima, immagino, degli amministrativi, del personale che ne ha sicuramente bisogno, ma non ha la necessità che hanno queste fasce più debili. Bisogna partire da loro perché una società civile parte da chi ha più bisogno. Leggevo la lettera di un padre che diceva, attenzione, io rischio di essere vaccinato prima di mio figlio. Le associazioni degli autistici in questi giorni hanno chiesto alla Regione, al Governo, di considerare questi ragazzi. Va fatto. È un atto di amore, è un atto con il quale una società si può definire davvero civile. Lei proprio in questi giorni ha ricevuto diversi appelli, diverse lettere da parte di genitori di disabili, da qui la necessità di scrivere direttamente al Ministro Speranza e al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Sì, confidiamo nella loro azione, nella loro responsabilità e nel buonsenso di chi ci amministra. Ci sono ragazzi che non hanno la percezione del pericolo, altri che sono costretti in casa, altri che escono ma non hanno il desiderio, non riescono a convincersi ad utilizzare la mascherina. Ecco, queste categorie appunto vanno protette, aiutate, sostenute, coloro le loro famiglie che sono lasciate come sempre troppo sole.